Musica Importanti esponenti del mondo della nutrizione e della medicina sono qui con noi oggi. Allora, continuiamo la nostra carrellata dei brillanti interventi e torniamo al tema. Il tema di oggi è nutrirsi tutti quanti un pochino meglio perché le risorse siano alla portata di tutti. Nel suo intervento lei ha fatto sicuramente, ha introdotto un elemento di innovazione parlando di nutrizione ortomolecolare, giusto? Dico bene? Che cosa intendiamo? Lo spieghiamo ai nostri videoascoltatori di Liberi TV. La medicina ortomolecolare nasce tramite l'Ainus Pulling che è stato Nobel per la chimica e per la pace tra l'altro. Stava percependo il terzo Nobel che era quello per la struttura del DNA che poi non gli fu conferito per motivi logistico-politici. Comunque la vitamina C per esempio fu scoperta dall'Ainus Pulling e fu utilizzata per curare delle malattie come il comune raffreddore, per rinforzare il sistema immunitario. E da l'ora in poi si arrivò alla conclusione che amminoacidi, minerali e vitamine potessero essere in grado di compensare gravi malattie senza dover ricorrere a farmaci o a terapie chirurgiche o estremamente aggressive. Ovviamente non una panacea totale ma migliorare lo stato di resistenza e la capacità immunitaria individuale semplicemente capendo quali sono le lettere dell'alfabeto mancanti nel metabolismo dell'essere umano. E questo è in pratica la medicina ortomolecolare. Perciò tutto quello che è omeopatia, fitoterapia, mettere a disposizione della guarigione, del benessere del paziente, del malato, tutte quelle frecce che sono nella faretra della medicina. Non c'è una medicina integrativa, alternativa o di sostituzione. Esiste una medicina come l'aveva concepita Galeno, Ippocrate e da più di 2000 anni noi sappiamo che la medicina deve guarire. Non importano le modalità, l'importante è che poi il paziente stia meglio. Perciò mettiamo a disposizione senza interessi partitici ciò che aiuta l'essere umano a vivere meglio, a stare meglio. Bravissimo, l'ha detto davvero molto chiaramente, ho capito anch'io. Allora, però questo le voglio chiedere, dico anch'io perché non sono un'esperta del settore. I tempi però quali sono? Ecco perché, allora, parliamo di un modo di curarsi diverso dalla tradizione che abbiamo portato avanti fino adesso con esimi professori. Quali sono i tempi per arrivare ad un miglioramento? Secondo me qualcosa cambia qui. Allora, prima di tutto dobbiamo fare un distinguo su quello che è l'emergenza, cioè la fase acuta va sempre fronteggiata col farmaco, la chirurgia d'urgenza. Io sono un chirurgo, perciò non mettiamo in dubbio questo. Però tutto ciò che è gestione di lunga durata, allorché il farmaco non risolve il sintomo, anzi persiste, prendiamo l'esempio delle malattie depressive, delle problematiche comportamentali, allora per l'emergenza il farmaco è sacrosanto. Però alla fine dobbiamo chiederci perché è nato il problema e andare a creare una medicina che sia causale, riscorrendo le cause e non curando soltanto i sintomi. Perciò bisogna collaborare con l'acuto, con il cronico e con l'intermedio e questo avviene solo quando si dialoga col paziente e quando fondamentale si dialoga fra medici. Quando si fa la richiesta di un esame di alcuni test e di una risonanza, di un'attacca, degli esami del sangue, i medici devono parlare. Io mi accorgo quando devo operare una persona, io uso la chirurgia robotica, sono stato il primo in Italia ad utilizzarla, ho operato personaggi come non so, Djokovic, campione del mondo di Tennessee e ogni volta che ho un paziente io vado a vedermi l'attacca, la risonanza, dialogo con il radiologo, dialogo con il laboratorista, dialogo con il cardiologo. A parte che è più divertente, ma dà dei meriti incredibili al paziente e che poi alla fine da questo dialogo si creano informazioni e ci si confronta e si migliora anche noi medici. Il medico non deve difendere un terreno di conoscenza, deve aggiornarlo costantemente. È un giardino che va innaffiato quotidianamente. Tutti i diplomi e le specializzazioni che abbiamo, che stanno nei nostri studi, sono già desueti e superati. Il momento stesso in cui li abbiamo recepiti, il momento stesso in cui li abbiamo appiccati sulla parete del nostro studio, sono già desueti e superati. Dobbiamo aggiornarci costantemente. Questo è il concetto. Nessuno è perfetto ed è fondamentale questo dialogo. È l'umiltà. Non possiamo riempire una tazza che è già piena. Dobbiamo svuotarci quotidianamente di tutte le infrastrutture per ricrearne di nuove. Grazie.